L'associazione nel nome del rispetto di Foligno prosegue la sua attività di promozione di una cultura della condivisione e del rispetto reciproco tra le giovani generazioni. Lo scorso 22 febbraio presso l'auditorium San Domenico ha organizzato un incontro degli studenti delle scuole primarie e scuola secondaria di primo grado del territorio accompagnati da docenti, amministratori comunali, genitori e rappresentanti del mondo dello sport e della cultura con Nicole Orlando, campionessa del mondo pareolimpico in tre discipline di atletica. La presenza di Nicole rientra nell'ambito del concorso promosso dall'associazione presieduta da Maria Cristina Zenovi che quest'anno invita a riflettere sul tema della disabilità. Non esiste diversità nel rispetto, è il titolo scelto per il concorso riservato alle scuole di ogni ordine e grado ed esteso a tutto il territorio nazionale. Parlando di sé Nicole ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita che ha affidato ad un libro vietato dire non ce la faccio, il quale proprio in vista dell'incontro la professoressa Cristina Virili, vicepresidente dell'associazione, ha guidato le scuole partecipanti a leggerlo e commentarlo così da poter far interagire gli studenti con l'ospite a cui hanno indirizzato tante domande e destinato regali da loro confezionati nonché poesie e attestazioni di affetto ed ammirazione lasciando spazio sia alla commozione ma anche ad immancabili selfie al ricordo dell'incontro ravvicinato con la campionessa. Voglio fare, prima di tutto, sono ovviamente emozionata di vedere tutti i ragazzi qui perché sono ovviamente emozionata, ecco, è la prima volta che vengo qui a Foligno e magari racconto la mia storia del mio libro perché il mio libro voglio fare capire ai ragazzi che devono imparare tanto e tanta volontà, vietato dire non ce la faccio. Lo sport è la mia passione, lo sport perché mi piace, perché lo sport è vita e speranza, perché lo sport mi aiuta e mi dà sostegno perché io ho un carattere molto forte, ho tanta tenacia e ho tanta venta dentro di me e voglio far vedere chi sono ovviamente. Sul palco a salutare Nicole si sono alternati Domenico Ignozza, presidente regionale del CONI, il vice sindaco di Foligno Maria Rita Barbetti, il presidente regionale paraolimpica Gianluca Tassi che hanno espresso un'anime condivisione e supporto per analigo e iniziative dell'associazione Nel nome del rispetto.